Benvenuti. Adesso andremo a fare un'introduzione ad Ableton Live e a vedere quali sono le funzioni principali, diciamo, da conoscere per iniziare a produrre. Allora, Ableton si articola in due sezioni principali. La prima è la sezione del Live e l'altra è quella dell'arrangiamento. Allora, la sezione del Live è solitamente pensata per chi, per l'appunto, suona Live, quindi è articolata in verticale, con delle tracce in verticale, dove in tutti questi rettangolini si possono mettere dei loop con degli effetti, eccetera, eccetera. Mentre la versione arrangiamento, che è questa, invece è pensata per chi vuole iniziare a produrre, ha un'organizzazione orizzontale e da qui si può avere accesso a tutte le automazioni relative al volume, agli effetti, eccetera, eccetera. Per spostarci tra una sezione e l'altra si utilizzano questi bottoni a destra. Essenzialmente, se noi schiacciamo quello più in basso, siamo nella sezione del Live. Se schiacciamo quello più in alto, passiamo alla sezione dell'arrangiamento. Adesso andremo a vedere quali sono le funzioni che poi noi restiamo sulla sezione del Live per praticità, perché è la prima che viene mostrata nel momento in cui si apre Ableton. Ma poi tante delle funzioni che vedremo qui si troveranno anche nella sezione dell'arrangiamento. Allora, partiamo subito da destra in alto. Questo è l'indicatore del tempo, cioè i BPM, i battiti per minuto. Noi potremo cambiarlo a nostro piacimento. Va da un minimo di 20 BPM a un massimo, penso, di 999 o 1000. Adesso non so di preciso. Questa è la metrica. È preimpostato un quattro quarti, ma potremmo cambiarlo a nostro piacimento. Questo è il metronomo. Si attiva semplicemente cliccandoci su e facendo partire. Molto semplice. Qui abbiamo i bottoni per appunto per il play, stop e per registrare. Ritornando sulla sinistra avremo delle varie categorie divise per sounds che semplicemente sono dei suoni creati per facilitare un po' il lavoro, se non si vuole prendere in mano un sintetizzatore subito. Se noi ci clicchiamo su avremo un'anteprima. Nella sezione delle... nella sezione drums avremo tutti i vari kit di batteria preimpostati da Ableton. Se noi proviamo a aprirne uno, ad esempio, questo 808. Ecco, avremo questo drum rack con già dei... diciamo dei macro a sinistra, cioè degli effetti preimpostati nella quale noi possiamo andare ad agire. Andiamo a sentire... avremo tutti questi kit più anche se noi clicchiamo su drum hits i sample singoli della batteria. Poi avremo la sezione instruments, troviamo i sintetizzatori nel pacchetto Ableton. Gli audio effects che sono gli effetti audio, essenzialmente ne troviamo una grossa... di una grossa scelta. I midi effects, quali possono essere ad esempio l'arpeggiatore, il regolatore di pitch, un randomizer, eccetera, eccetera. Il Max for Live che è il famoso... la famosa sezione di Ableton dove gli utenti possono condividere le proprie... le proprie creazioni, quanto possono essere sintetizzatori oppure tanti effetti, eccetera, eccetera. I plug-in, dove noi abbiamo i nostri plug-in di terzi. E poi la sezione campioni che è... dove c'è un po' di tutto, diciamo. Ci sono sample, un po' di tutto, da dei suoni singoli, molto acidi, come può essere delle batterie. Poi qui sotto abbiamo la nostra libreria, diciamo, che è dove potremmo mettere delle nostre cartelle personalizzate, dove avremo dei file midi, dove avremo dei sample, tutto quello che vogliamo. Qui sotto, in questa zona, abbiamo una finestra di info molto utile perché ci fornisce delle informazioni su ogni sezione di Ableton, quindi se non ci si ricorda qualcosa è molto molto utile. E qui, in centro, abbiamo le nostre tracce. Si possono inserire tracce MIDI o tracce audio. Tutte e due hanno dei controlli relativi al mixer dei volumi, al pan. Qui si può attivare o disattivare la traccia. Renderla sola, cioè che si ascolta solo quella. E per ultimo, per ultimi anzi, qui abbiamo due tracce di ritorno preimpostate con un riverbero e un delay e il canale del master, essenzialmente. Queste sono, diciamo, le cose principali da sapere, da imparare nel momento in cui si apre Ableton. Nel prossimo video spiegherò quello, quella che è la sezione arrangiamento.